Questo spazio, concepito in ogni dettaglio da Chorus in collaborazione con Conrotto Progetti, sarà la headquarter di Chorus International, parte di Chorus Group. La scelta dello stile per questo momento di accoglienza nello spazio Chorus è stato quello di lavorare con linee morbide, arrotondate, con l'utilizzo di una paletta cromatica calda. Materiali caldi, accoglienti, avvolgenti come la tenda in tessuto, la moquette beige come un grosso tappeto o questa grande libreria che abbraccia lo scrive a me, offre un comfort come quello da lavoro di casa. D-Mobile Innovation si è occupata della digitalizzazione del progetto del new headquarter di Chorus attraverso la creazione di modelli digitali tridimensionali che sono stati utili alla gestione delle fasi di progettazione e costruzione dell'asset. Il progetto di Green Design si lega a quello architettonico e dalle scelte fatte dagli colleghi architetti e prevede una sistemazione a verde che accompagna il percorso di chi entra in Chorus dall'ingresso fin dentro gli uffici. Grazie a tutti!